Siamo contenti che finalmente è partito il nostro centrovacciale qui sul nostro territorio, un lavoro eccezionale e qui mi preme ringraziare il direttore sanitario, il dottore Melillo, il professore Patella e tutti i medici di base di Montrevere Merovelli, questa grande sinergia insieme a noi dell'amministrazione comunale, l'assessore Arramo, Falabella e a tutti i ragazzi dell'amministrazione perché abbiamo veramente lavorato tantissimo affinché oggi potesse partire questo centro ma soprattutto per poter dare risposte certe ai cittadini. Ci auguriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi possano arrivare quanto più vaccini possibili per arrivare a quella cosiddetta immunità di greggio di cui ne abbiamo tanto bisogno e metterci finalmente alle spalle questo bruttissimo incubo che è rappresentato da questa pandemia e da questo virus. È stata una grande sinergia, come dicevo, perciò prima faccio tutti i ringraziamenti a chi ha fatto sì che questo si realizzasse ma soprattutto anche grazie al lavoro della struttura comunale, ai miei consiglieri, ai miei assessori i quali tutti quanti insieme con grande sinergia siamo riusciti ad ottenere questo grandissimo successo per la nostra comunità. Siamo contentissimi che è partito anche a Montecorvino, così diamo un grande servizio ai cittadini di Montecorvino grazie all'Asel, quando vi è sinergia tra Asel e i comuni si possono fare tante cose. Incominciamo oggi per un futuro migliore per tutta Montecorvino, sperando che vacciniamo presto tutti i nostri cittadini per far sì che sono al sicuro tutti. Grazie a tutti i nostri cittadini